Bella a tutti quanti ragazzi e bentrovati Allora oggi parliamo di trasferimenti Intanto vi faccio vedere una squadra forte dove il valore dei giocatori è bello alto E poi una squadra dove il valore dei giocatori è molto più basso Allora prima di iniziare il video però ragazzi volevo farvi vedere qua Abbiamo Gladiatore 900 che c'ha il Pula Gladiatore 900 se non lo conoscete insomma è l'altro tipo che insomma ha iniziato Ha fatto un canale YouTube che sta copiando i miei video insomma di OSM Più o meno siamo là Ha iniziato un anno fa e insomma sta portando tattiche stronzate roba eccetera Se la cava anche bene insomma però mica tanto Adesso ho appena perso qua e insomma non va mica tanto bene Sta giocando il campionato si sta allontanando abbastanza Va bene ragazzi dai iniziamo con il video Allora andiamo sul valore rosa ragazzi Ecco il mio valore rosa sto salendo Ero con una squadra con l'obiettivo 4 Quindi non è che ho una bella squadra Però in poco tempo insomma in un bel po' di tempo Ho superato gli altri adesso sono il primo e sto reggiando verso il 1 miliardo Allora andiamo sulla mia rosa ragazzi Prima vi faccio vedere questa squadra qua dove il valore dei giocatori è bello alto E allora come comprare e come vendere ragazzi Ho qua un bel po' di portieri che non riesco a vendere Li ho comprati tanto tempo fa però sono ancora qua e non vanno via da qua Però il fatto che mi piace è che ogni giorno io vendo dei giocatori Ho lasciato 3 portieri qua in vendita e un altro 4 qua Un centrocampista, difensore eccetera Quindi ragazzi dovete sempre tenere il massimo dei giocatori in vendita Cioè 4 Quindi quando vendete uno entrate subito nel gioco se avete la possibilità E mettete in vendita un altro ancora Il fatto sta che io sto vendendo sempre Però sto vendendo anche 2-3 giocatori forti al giorno Anche 2 se vendo al giorno mi bastano Anche perché costano tanto e io ci guadagno ancora di più Però il fatto sta che questi portieri non vanno proprio fuori dalle scatole Non so perché ma il prezzo è anche basso quindi è strano Però ragazzi il problema è che più andiamo in alto di valore Meno giocatori vendiamo Quindi adesso vi faccio vedere anche un po' i prezzi Tipo quanto venderli E allora ragazzi andiamo per esempio in lista trasferimenti Eccoci qua Allora ragazzi quello che dovete fare voi è fare questi calcoli Per esempio un giocatore da Prendiamo come esempio questo qua dell'Atletico Madrid Andre Gomez Che vale 20 milioni circa Questo qua lo compriamo Lui vale 16 Ecco 16 milioni di valore Noi possiamo venderlo sui quasi 30 milioni Sui 28 milioni così circa Così lo vendiamo meglio Adesso vi faccio vedere Noi facciamo questi calcoli Allora lui costa 19 milioni 20 milioni facciamo come calcolo Lo paghiamo 16 milioni Cioè abbiamo speso 4 milioni in più rispetto al suo valore Noi lo vendiamo ai 28-30 milioni Abbiamo speso 20 E guadagniamo 10 milioni Allora Facciamo degli esempi intanto Andiamo Valore rosa Prendiamo per esempio Un giocatore Che aveva il suo valore Vediamo questo che valore ha No niente Un giocatore che ha il valore di 20 milioni Non ce lo fa Prendiamo Questo 18 milioni Questo qua ragazzi Guardate qua Già con 18 milioni di valore Anzi dovevo cercare uno da 16 milioni Ragazzi scusate Madonna Allora ragazzi 16 milioni Punto 9 Questo giocatore qua ragazzi Prendiamo Guardate qua Io non alzo Non alzo tanto insomma Come tante persone che Puntano Al massimo qua E poi aspettano giorni Fin quando vendono No ragazzi Anche se guadagnate un bel Un bel po' insomma In più Non dovete farlo ragazzi Chissà se vendete qualcosa Allora Qua 30 milioni 31 Insomma ragazzi Eccoli guadagnati subito In un giorno questo va via Insieme a lui Andranno via anche altri giocatori Che metterete in vendita Mettete sempre su Questo come posso chiamarlo Questo livello qua Insomma Ecco Questo indice qua Ecco 30 milioni Sarebbe qua E come a metà Invece voi Dovete mettere sempre 32 milioni ragazzi Per un giocatore che vale 16 Sono 30 milioni E sono 10 milioni Guadagnati Allora Un giocatore che vale Di più Prendiamo per esempio Questo 28.9 Eccolo qua Ragazzi 28.9 Sono 29 Lui vale 24 Sono 5 milioni Di differenza Che noi paghiamo in più Faccio Questo esempio qua E poi ci spostiamo Sulla squadra Con il valore Dei giocatori Molto più basso Allora ragazzi Poi per acquistare Andate a vedere Quanto pagate La differenza Sui giocatori Ecco qua E questo qua L'abbiamo trovato Subito 24 Lo paghiamo 29 Paghiamo solo 5 milioni Di differenza E siamo sopra Il valore Dei 20 milioni Quindi Un bel guadagno Proviamo a vedere Un altro pochino Anche questo qua 22 4 è qualcosa Anche qua Un bel guadagno Ragazzi Vediamo Vediamo Qua qua A posto Andiamo qua Ragazzi Il nostro giocatore 29 milioni Lo paghiamo 24 Andiamo su Valore rosa Vediamo se abbiamo Un altro crescino E eccolo qua Proviamo Questo qua Da 25 Ragazzi Un giocatore Da 25 Per esempio Prendiamo sui 47 milioni Ragazzi Anche un po' di meno Così va via prima Anche un po' di più Tanto non perdiamo niente Va via lo stesso 47 milioni Ragazzi Li prendiamo tranquilli Guardate qua 47 milioni Lo paghiamo Abbiamo detto 29 Sono 18 milioni In più Ragazzi Guadagniamo 18 milioni Sono quasi 20 milioni Guadagnati Sono giocatori Che ha come valore Come valore Di 24 milioni Noi lo vendiamo A 47 Cicli Quindi ragazzi Sono tanti soldi Che prendiamo Quindi Non dovete comprare Giocatori Che costano tanto Ma anche la differenza Tra il valore E il prezzo di acquisto È alto Ma dovete Comprare giocatori Che hanno La differenza Poco Insomma Tipo Ho trovato un altro qua È pieno di giocatori Che potrei acquistare Ragazzi Però non ho soldi Guardate il mio valore rosa Pieno di Giocatori Sopra il 100 Guardate qua Guardate qua Tutti sopra il 100 Anche gli attaccanti Ho dei attaccanti Bellissimi Guarda 13 partite 13 gol Voto 8.2 Questo qua 10 partite 6 gol Questo qua 5 2 4 assist Fa sempre assist Questo qua Voto 8.8 Vediamo questo qua 17 partite 12 gol Andiamo qua Ragazzi Classifica Marcatori Guardate Hanno Ho degli attaccanti Che fanno un sacco di gol Quindi ragazzi Vendete subito Ogni volta Che avete qualche attaccante Qualcuno che non c'è Ne ha venduto subito Cercate di comprare Gli giocatori Che hanno il valore Insomma La differenza Tra il prezzo di acquisto E il loro valore È molto Molto bassa Insomma Sui 4 5 milioni Anche 6 milioni Se superate i 20 E adesso ragazzi Torniamo Andiamo su una squadra Che ha Di giocatori Un po' più scassi Eccola qua E ho appena vinto Contro Il quarto posto Qua È un bravo giocatore Anche questo E insomma Sto facendo bene Anche qua Sono ottavo Per il momento Però Siamo qua a pochi punti E sto salendo Allora ragazzi Ho una squadra Con obiettivo 16 Quindi ragazzi Ho la peggior squadra Del campionato Valore rosa Eccolo qua Sono quinto Ragazzi Ero ultimo Ero qua 24 Ero io Adesso sono Quinto ragazzi Sono aumentato Da 30 milioni Quando valeva La mia squadra A 150 milioni E vi dico Che è difficile Salire con una squadra Così scarsa E allora ragazzi Andiamo Anche perché Indifferentemente Da quanti giocatori Ne vendiamo Siccome abbiamo Pochi soldi I giocatori valgono poco Noi prendiamo Sempre poco E guadagniamo Sempre poco Allora ragazzi Rosa Insomma Adesso ho aumentato Un bel po' Il valore Dei giocatori Però è sempre basso Ragazzi Allora Andiamo in lista Trasferimenti Vediamo un attimo Quanti giocatori Che abbiamo venduto oggi Andiamo qua Uno Due Tre Quasso Cinque Cinque giocatori Che abbiamo venduto oggi E ne ho comprati Un altro po' Ieri Vediamo ieri ragazzi Quanti ne abbiamo venduti Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei giocatori Venduti ieri Cinque giocatori Venduti oggi Ragazzi C'è Meno Valgono Più ne vendiamo Più valgono Meno ne vendiamo Allora ragazzi Andiamo in lista Trasferimenti E proviamo a fare Qualche acquisto Allora Guardiamo un attimo I portieri E guardiamo il valore Uno Quattro Due Tre Ragazzi Qua non guadagniamo niente Tre Due Quattro Nove Niente Allora ragazzi Tanto per farvi Degli esempi Ecco Questo Abbiamo trovato Uno No Ecco Sei Sei Otto Nove Sette Di media È 2.9 Milioni Allora ragazzi Un giocatore Che vale 6 milioni Noi lo compriamo A 9 Paghiamo 3 milioni La differenza E poi lo vendiamo A 11 milioni Per esempio Un giocatore Che vale 6 Quindi guadagniamo 2 milioni Allora Un giocatore Per esempio Che vale 2 milioni Lo vendiamo A 4 Eccolo qua Un giocatore Che vale 2 Lo vendiamo A 4 Cerchiamo Un giocatore Che vale 2 Eccolo qua 2.5 3.7 E 1.2 Di differenza Questo è il 2.5 Possiamo venderlo A 4.5 Lo compriamo A 3.7 E guadagniamo Un 900 mila A poco Allora Abbiamo trovato Qua Il giocatore Da 6.8 E quasi 7 Questo qua Ragazzi Lo vendiamo Quasi al doppio Un giocatore Da 6.8 Lo vendiamo A 13 14 milioni Se noi lo compriamo A 9 Ci guadagniamo 4 milioni 3.5 4 E allora Andiamo a vedere Che giocatori Ho io di valore Cerchiamo Un giocatore Di valore 7 milioni Ragazzi Allora Faccio vedere Subito Degli esempi No Lista Lista 3 Giocatore Che vale 7 milioni E questo qua Mi sa che vale 5 4 6 9 7 Eccolo qua Ragazzi Questo vale Quasi 7 Vi faccio vedere Il prezzo Col mio Allora 7.2 E 400 Mila Di differenza Questo lo vendiamo Sui 13 14 Ecco Su quel giocatore Da 6.8 Prenderemo Sui 13 Milioni E qualcosa Quindi ragazzi Lo paghiamo 9 9 e mezzo Prendiamo 13.2 Guadagniamo Dove Siamo Classificavolo Faccio Così Questo Trasferimenti Dai 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 So che vi sto Roppendo Le scatole Però Allora Questo lo paghiamo 9.7 Ci guadagniamo 3 milioni 3 milioni E mezzo Guadagniamo Ragazzi Ecco Per un giocatore Insomma Ecco Questo che vale Per esempio 678 Ragazzi Lo vendiamo Sui Quasi il doppio Sui 1.200 Così Così Li vendiamo subito E guadagniamo Sempre qualcosa L'importante Ragazzi Che vendete Sempre giocatori Mettete sempre 4 giocatori In vendita Per esempio Questo qua 3.2 Costa 4.7 Noi questo qua Lo vendiamo Quasi a 6 Lo vendiamo A 5.5 Così va via Quindi ragazzi Quando mettete I giocatori In vendita Quello che Vi dico io E di non Alzare Troppo Ecco Mantenete Questo livello Qua State sempre Su questo livello Qua Non troppo Più alzate Peggio E meno Insomma Meno abbassate Vendete Prima Però Meno ci guadagnate Quindi Per me Siccome In qualsiasi Campionato Che faccio Ho sempre Il valore rosa Più alto Di tutti gli altri Quasi sempre Dipende Se parto con una squadra Scarsa Eccetera O se c'è qualcun altro Bravo Che anche lui Sta facendo Trasfermenti A manetta Però lo stesso Io riesco a superarli E quindi Penso che Questo mio Metodo Penso che Funziona bene Ecco Quindi ragazzi Mantenete sempre Questo livello Qua Per ogni Giocatore Che comprate E cercate Di non pagarli Troppo Ragazzi Va bene Ragazzi Io vi lascio Qua E ci sentiamo Nel prossimo Video Grazie a tutti Grazie a tutti.